Ed eccoci qua, buon inizio di settimana a tutti voi, pronti per una nuova classifica integrale, un nuovo video dedicato appositamente per il 90, ritorneremo poi nel 61, ma il 61 ancora validissimo su Genova-Pelermo, la frequenza c'è, attenzione a quelle somme 61 e quindi previsione apertissima almeno almeno per i prossimi due colpi. Quindi il 90, come vi dicevo, arriva a Napoli, quindi avevo detto che le ruote primarie rimanevano Napoli, Torino e Cagliari, ma di cui anche avevo detto Napoli, probabilmente che era la primaria, infatti dopo Genova c'è stato un fuoripista, ma quello ci sta, perché perfezione e salute nel gioco dell'otto non esiste. Quindi ci andiamo molto vicino e approssimativamente grazie agli studi e quindi il 90 arriva a Napoli non come strato determinato, ma come strato semplice, poi andremo a inseguire tutti i 90 che sono rimasti indietro per vedere e ottimizzare la classifica integrale del 90. Quindi il 90 arriva a Napoli, guardate tutti i 90 indietro, quindi poi è uscito a Genova, fu fuoripista, ma poi gli ultimi 90 di settembre erano proprio Bari e Roma. Memorizzate Roma e Bari, quindi attenzione, io nelle cose vado sempre per logica, fino adesso le cose sono andate per il meglio, perché si va sempre per logica. Quindi se esce prima in quella ruota, sì che si ripetono i numeri, ma per logica dovrebbe lasciare poi spazio alle gemelle, quindi se Bari e Roma si sono fatti già vedere, rimarranno le loro gemelle. Avete già capito di dove voglio arrivare? Ci arriveremo con gli schemi per farvi vedere i 90 che sono arrivati proprio a ruota grazie all'ambata contata. E allora passiamo agli schemi, questo è appunto il 90 che arriva su Napoli, questa è la classifica, qua ho già cancellato la ruota, la rivenderemo poi infine, quale ruota ho messo? L'80, vabbè, chiusa parentesi, lasciamo stare, due ritardi, quindi ci sono stati sei ritardi, poi due ritardi, e questi sono sempre tutti i ritardi da gennaio ad oggi. Quindi guardate qua, due, uno, cinque, sei, c'è stato questo sbalzo qua di un'estrazione, poi il 90 è ritornato. Allora, andiamo a vedere quindi quello che è successo sabato, questo 90 di Napoli esce a Firenze, cioè esce a Napoli, ma va a finire Firenze. Vi ricordate cosa vi avevo detto, no? La famosa classica situazione a Tenaglia, perché questo, questo Napoli va a rafforzare Firenze e Roma. Avete visto lo schema? Quindi, se è già uscito a Roma, cosa rimane? Firenze, tutte le ruote stanno uscendo sempre, come riferimento logico, a una ciclometria particolare, nel senso, prima uno, poi l'altro, poi l'altro ancora. Allora, il Bari è già uscito, ma si ripresenta questa situazione per Venezia. Vedete, sì che va a Bari, ma riflessa a Venezia. Avete visto che quando si arriva ai piani alti di estrazioni, di ritardo, quindi abbiamo detto piani bassi, fra le 25 e 26 estrazioni era regolare il 90 di Venezia, ma adesso va ai 50, 56, come nella statistica faceva vedere. Ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. E quindi Venezia, temo che potrebbe essere ancora quella ruota classificata, quindi. Poi, questo ha fatto uscire il Milano e il Napoli, anzi, meglio il Napoli, perché prima a Monte c'erano queste. Vi faccio vedere. Vedete, c'era questa, ma anche un'altra ancora. Vedete, eccolo qua. Quindi siamo proprio qua, già ancora a settembre, quando ha fatto sviluppare il 90 a Milano. Dopo un po' di colpi arriva di nuovo un'altra situazione, che è il Milano, poi questo di Roma andava su Napoli, ma nel frattempo Napoli non usciva. Ecco perché ho continuato a dire Napoli, perché poi c'è stata quella del 29 settembre che è di nuovo riconfermato Napoli. E vedete che le posizioni non erano queste, pazienza, ma è uscito come estratto semplice. Poi abbiamo detto, allora, il Firenze. Eccolo qua. Allora, 22 ottobre, 25 ottobre, la risoluzione per domani. Questo va diretto a Firenze. Quindi, riprendiamo il discorso che avevo fatto sabato. Eccolo qua. Quello del 29 settembre, Roma e Firenze, doppia azione. Quindi, se questo di Bari va a finire Roma e Firenze, quello di sabato scorso va a finire, quello del Napoli, Firenze e Roma. Quindi, attenzione, veramente a Firenze. Dovremmo essere come una di quelle ruote che viene inserita nella classifica integrale del 90. Per Bari e Venezia rimangono ancora queste. Quindi, Bari ha già dato. Ricordate, Bari ha dato. Roma ha dato. Cosa rimane? Venezia. Quindi, Roma ha già dato. Cosa rimane? Firenze. E quindi, la classifica integrale diventa questa. Cagliari-Firenze, Torino e Venezia. Ho introdotto la ruota di Firenze. Prima posizione è la più forte. È in parte la quarta. Ma, non dimenticate l'estratto semplice, perché ho visto negli scontrini, finalmente avete messo l'estratto semplice. Più nell'estratto semplice, meno nelle posizioni. Perché, come vi ho già detto, e sapete a memoria, che nelle posizioni viene pagato più di 50 volte la posta con un euro. E invece, come estratto semplice, con un euro, circa 10 euro. Quindi, più per l'estratto semplice, un po' meno negli estratti, come può essere la prima posizione. Quindi, Cagliari. Parliamo del 90 di Cagliari, della nuova classifica, mi raccomando. Cagliari, quarta, quinta posizione, la quinta la più marcata. È come strato semplice. Firenze, prima posizione è la più forte, in parte la quarta. È come strato semplice. Torino, seconda e terza posizione. Seconda posizione è la più forte, in parte la terza. Venezia, ancora rimane, fra quelle ruote, quindi abbiamo detto, e vi ho fatto vedere gli schemi, fra quelle ruote, che dovrebbe sortire il 90, e rimane ancora nella classifica. Bari ha già dato, rimane a Venezia. Roma ha già dato, rimane a Firenze. Questo Cagliari-Torino, ancora. Dalla vecchia condizione, questa che vi faccio vedere, ancora aperta. Quindi, Cagliari-Torino, eccola qua. Situazione del 24 settembre. Siamo sul finire di settembre, quindi ancora Cagliari-Torino non ha dato. Vedete? Vi faccio vedere gli schemi, eh. Quindi, il Cagliari-Torino non ha ancora dato. Questa è la tabella integrale di ogni ambata 90, dove cade sulla ruota. Qui vi dice, chiaramente, dove potrebbe arrivare. Perché se voi ragionate insieme a me, se Roma ha già dato, in teoria, dovrebbe di nuovo riuscire ad andare su Milano-Napoli, poi dopo se esce a Roma. Ma se non è ancora andato a Firenze, Firenze, vedete, mettiamo che esca Firenze, come nella classifica che vi ho fatto vedere, poi in automatico Venezia-Baria ancora una volta. Quindi, se la teoria non è sbagliata, magari arriva prima Firenze e poi dopo Venezia-Baria è già dato. Quindi Firenze-Venezia è tutto collegato. Tutto collegato. Questa è un'ipotesi che dico, ma nella maggioranza dei casi finisce sempre così. Quindi è tutto un collegarsi. Quindi se esce a Cagliari, ritorna a Cagliari-Torino. Se esce a Firenze, va a finire Venezia-Bari. Se esce a Genova, va a Bari-Venezia. Vedete, Milano-Cagliari-Torino. Poi Napoli-Firenze-Roma e così via. Quindi, in teoria, dovrebbe arrivare a Firenze. Questa è una mia ipotesi, vedremo se mi sbaglierò. Ma ricordate che c'era la seconda azione, la prima azione che sarebbe questa. Eccola qua. Il famoso 90 di Bari che va a finire Roma-Firenze. E poi, sabato a Napoli, ritorna il 90 e va a finire Firenze-Roma. Roma già dato, rimane Firenze. Posizione più forte è la prima, guardate qua. E in parte è la quarta. Parliamo adesso del 61. Palermo e Genova. Come vi ripeto, tante situazioni per il 61 e quindi ne varrebbe la pena seguirlo. Genova-Palermo, proprio fra le due ruote gemelle, la somma decina calibrata. Quindi, c'è un gemello persino di mezzo. Quindi, 61. Questa decina calibrata, 61. Attenzione. Poi abbiamo l'ambatta contata Genova-Palermo. Posizioni più forti, le terze posizioni sia per Genova-Palermo. In parte la seconda a Genova, in parte la seconda a Palermo. Non dimenticate, come il 90, l'estratto semplice. Per chi vorrà giocare, sono l'ambatta. Poi, la famosa somma totale. La somma totale fra Palermo e Genova. Ovvero, solo Palermo. Vedete la somma totale? che porta il 61. Previsione completa che rimane sempre questa. Tutta è nazionale, se volete fare la lunghetta. Quindi, come vi dicevo, questa settimana ancora, se domani esce, previsione conclusa. Se non esce, giovedì. Poi stop. Ma questo 61 dovrebbe dire la lunga per quanto riguarda queste situazioni. Una, due, tre. E poi quattro. Mi stavo dimenticando. Il 61 della nazionale va a finire Genova, Milano e Napoli. I primi tre strati della nazionale poi camminano sempre su queste tre ruote. E il 61 ancora a Genova non si è fatto vedere. Per cui il 61 a Genova ancora domani, martedì. Se non esce martedì, giovedì. Poi si conclude, ma almeno nei cinque colpi arriviamoci. Perché questa, avete visto il 41 di Genova, no? Si è ripetuto, eccolo qua. Seconda volta. Prima viene a Genova in prima posizione. Non è peccato il 25 che non si è girato il 52. E poi di nuovo il 41. Dopo due colpi, dopo neanche un colpo. Due è un colpo. Quindi il 41 poi salta, un colpo e poi al quarto colpo arriva. Perché al secondo colpo è arrivato il 41 a Genova. Quindi poi, dopo due colpi, ritorna il 41, come vi avevo già detto. Perché c'erano tutte quelle condizioni a monte che riportavano il 41. Quindi previsione che rimane aperta col 61 invece della sua Genova a Palermo. Ci risentiamo alle prossime news, ragazzi. Mi raccomando chi è nuovo. Se ha piacere iscriversi al mio canale, lo faccia pure. Campanellina per attivare le nuove notifiche dei contenuti video. Ci risentiamo alle prossime news. Da Marcus è tutto. Passatevi una buona serata e ci risentiamo ai prossimi video. Ciao ancora da Marcus. Ciao.